Nasce nel municipio 14 della capitale e fonda le sue basi nella storia. È l'archeoparco Castranova, diretto da Barbara Milioni, presidente della Federazione dei Rievocatori Storici di Roma, e inaugurato pochi giorni fa. Siamo qui per inaugurare il primo archeoparco di Roma, tema romano, archeoparco Castranova, un progetto che sogniamo da 15 anni e che oggi finalmente diventa realtà. Al taglio del nastro era presente Eleonora Guadagno, presidente della Commissione Cultura in rappresentanza del Comune di Roma Capitale. La vostra passione verrà consegnata alle nuove generazioni che avranno modo, insomma, di percorrerlo e di viverlo, e di appassionarsi e di entrare e rivivere questi momenti della storia. Il parco, sulla sommità del colle, che domina via di Casal del Marmo, dà proprio la sensazione di essere finiti in un'altra epoca. I Rievocatori, di varie associazioni, capitanate dalla capitolina SPQR, portano i visitatori a toccare con mano quello che in altri musei può essere solo osservato attraverso un vetro. Ha questa cresta che richiama molto una figura ittica, un pesce. Perché? Perché il controreziario era un pescatore. Gli avventori possono interagire con molte attrazioni sotto la guida esperta dei Rievocatori stessi, dalla tessitura con telai fedelmente costruiti, alla degustazione dei piatti tipici dell'impero, al combattimento nell'arena, tutto è alla portata degli ospiti di qualsiasi età. Per i più piccoli, anche la possibilità di essere archeologo per un giorno e poter estrarre dal terreno reperti originali dell'epoca e restaurarli portandoli all'antico splendore. Si alternano spettacoli di vario genere, che ripropongono i riti dell'impero, dalla benedizione del castra alla rievocazione di battaglie storiche. La speranza condivisa dalla direzione del parco e dall'amministrazione romana è quella di instaurare una collaborazione a scopo didattico con le molte scuole della capitale, così che sempre più possano vivere l'esperienza di un tuffo nel passato. Ho mia fatta bene su!